Padre nostro, ti vogliamo conoscere. Cristo risorto, buongiorno carissimi amici. Con grande gioia, con grande entusiasmo, anche oggi, apriamo il nostro cuore, i nostri orecchi, alla parola di Dio che ci dona il Vangelo secondo Matteo, capitolo 6, dal 7 al 15. In quel tempo, Gesù disse ai Suoi discepoli, pregando, non sprecate parole come i pagani. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi, li ne mettiamo ai nostri debitori. Caimè eisenenke semas eis peirasmon, ma liberaci dal male. Se voi, infatti, perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, eppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Cari amici, oggi siamo sempre nel capitolo sesto del Vangelo secondo Matteo, dove Gesù consegna la preghiera del Padre nostro. Come avete udito o ascoltato in un modo sorprendente, ho letto una frase dall'originario greco, in cui ci è pervenuto il Vangelo secondo Matteo, proprio perché molto spesso quando c'è la pagina di questo Vangelo ho tanti commenti in cui la gente un po' si lamenta della traduzione attuale e quindi l'ho voluto dire in greco, l'originale, e credo che nessuno potrà dire nulla. Ecco quanto è importante oggi accogliere il succo di un discorso straordinario, che Gesù sta facendo ai discepoli e alla gente che è lì attorno. Gesù paragona, confronta, come abbiamo visto ieri, persone ipocrite, scribi, farisei, dottori della legge, che si fanno vedere apparire in uno stile, come dice anche qui, a forza di parole vogliono essere ascoltati, visti, ammirati, e uno stile umile, semplice, di preghiera, quello del cristiano. Ecco che Gesù dice voi pregate in questo modo. Gesù, l'abbiamo visto nel seminario online, che stiamo facendo già da tre settimane, sui Vangeli e su come Gesù viene visto da ogni evangelista, abbiamo affrontato anche la serata di Matteo, dove Matteo presenta Gesù come il nuovo Mosè. Siamo nel primo dei cinque grandi discorsi di Matteo, dove Gesù parla dal mondo, da una nuova legge. Voi eravate abituati a pensare in un certo modo, ma io vi dico qualcosa di più. Io vengo a portare a compimento ciò che voi avevate udito nell'antica alleanza. fino al punto di arrivare, voi sapevate che non potevate pronunciare il nome di Dio in vano. Nel comandamento c'è scritto, addirittura nei tantissimi precetti che Israele si portava dietro, attraverso anche le scuole dei rabbì, ecco che veniva insegnato meglio proprio non pronunciare mai il suo nome, mai, così non pecchiamo, così non andiamo fuori dalla legge. e rimaniamo e ci conserviamo santi. Viene Gesù che dice quando tu preghi Dio nominalo, ma non chiamarlo Dio, chiamalo Abba, Padre. Questa è la grande novità. Qui dobbiamo soffermarci, cari amici, non su come abbiamo tradotto il Padre nostro, perché dopo noi facciamo fare al diavolo il suo percorso, ci allontana dalla verità e noi iniziamo in liti, in discussioni, in diatribe, per una parola, per un'altra, ma non viviamo ciò che Gesù ci è venuto a donare. La nuova legge, è la legge della figliolanza, non è proprio una legge, è una nuova relazione. In Gesù tu non sei più uno schiavo, in Gesù tu non sei più una persona che guarda Dio dicendo, Dio abbi misericordia di me, tu sei talmente lontano, io sono talmente anche lontano da te, a causa dei miei molti peccati. Gesù dice, tu sei figlio. Ecco la nuova legge, la nuova relazione, tra noi e il Padre. Tu sei un figlio amato da Dio. In Gesù tu sei straamato, strabenedetto. In Gesù tu hai qualcosa di più. di ciò che il mondo ti può dare. E Gesù ci ha insegnato a chiamare Dio Padre. È una novità assoluta. Oggi siamo abituati, anche per una ritualità, che diciamo sempre Padre nostro, Padre nostro, Padre nostro, ma alla fine non viviamo da figli. Com'è la tua relazione con Dio? Vivi con Lui, come con un padre, di cui ti fidi ciecamente, sai che ti ama, sai che ti accoglie come sei, sai che ti prepara tutto ciò di cui hai bisogno, o vivi con un padre padrone, un padre che credi che ti abbia abbandonato, allontanato da te? questa è la prima cosa importante del Padre nostro. Una nuova relazione. Gesù ce l'è venuta a consegnare. Infine, terminata questa preghiera, perché è tutto un capitolo, siamo noi che abbiamo preso la preghiera, l'abbiamo fatta nostra, continua Gesù. voi dunque pregate così, Padre nostro che sei nei cieli, liberaci dal male, continua, non è finita la preghiera. A me piacerebbe introdurre questo nel Padre nostro. Se voi, infatti, perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli, perdonerà anche a voi. capite che molto spesso noi facciamo questa bella preghiera, ma immediatamente dopo ci sporchiamo il cuore, le mani, la bocca, inveiamo contro gli altri, brontoliamo, critichiamo, giudichiamo, condanniamo, dopo aver recitato il Padre nostro. Non è una recita, è un vissuto, è una relazione. Ecco perché oggi lo slogan è Padre, io ti voglio conoscere, noi ti vogliamo conoscere. Noi vogliamo conoscere questo Padre che è un Padre di amore. Ecco la nuova legge, ecco la nuova apertura che Gesù è venuto a farci. Nel Vangelo secondo Matteo, il tuo Padre, Dio, ti ama e ti perdona. Comportati come Lui si comporta con te. Lasciati amare e perdonare da Lui e tu fai allo stesso modo. Ecco il Padre nostro, io lo voglio conoscere, io lo voglio sperimentare. Allora, cari amici, chiediamolo, invochiamo lo Spirito Santo perché solo Lui ci dona di incontrare il Padre che ci ama infinitamente. Vieni, Spirito Santo, entra nella nostra vita, noi vogliamo aprirci a te. Spirito Santo, tocca i nostri sentimenti, tocca la nostra mente, tocca le nostre vite perché noi possiamo essere aperti ad una nuova relazione con Dio, ad una relazione di fiducia, ma soprattutto aiutaci a sperimentare quanto siamo preziosi ai Suoi occhi. aiutaci a lodarlo in ogni momento, ad accogliere il Suo Regno, ad accogliere la Sua volontà, ad accogliere questo amore che nulla mai potrà fermare e spezzare. Grazie a Suo Figlio Gesù Cristo, a te la gloria nei secoli dei secoli. Amen. E allora, amici cari, lo slogan è Padre Nostro, ti vogliamo conoscere. Io voglio conoscere questo Padre di amore perché le vicende della vita umana a volte mi allontanano da questa esperienza. Voglio fare anche oggi, anzi, voglio che anche voi facciate oggi l'esperienza di amore di Dio Padre. Conosciamolo e ameremo come Lui ama ciascuno di noi. Grazie per avermi accolto iscrivetevi sul nostro sito web per seguire la serata sul Vangelo secondo Matteo già fatta e la prossima che sarà sul Vangelo secondo Giovanni. A domani, ciao! Signore Ti ascolto Ti ascolto Grazie per avermi accolto